Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Ubriaco al volante rischia tre incidenti in pochi minuti inseguito e bloccato da poliziotti liberi da servizio Ruba una bici durante la festa della tratta a Marotta Arrestato dai carabinieri di Fano un 32enne romeno Ritrovati coltello e l'iPhone di Ismaele Lulli Ambra si è trasferita in Macedonia con la sua famiglia Ricollocata a Sant'Ercangio la rampa di accesso per disabili Che scatenò tante polemiche Comercianti del centro storico protestano contro il comune di Fano Per la scarsa programmazione del cartellone degli eventi estivi Buonasera dalla redazione, benvenuti a Occhio alla Notizia Due agenti della polizia stradale liberi da servizio Hanno inseguito e bloccato a Metaurelia di Fano Un 32enne che guidava Ubriaco e Contromano Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Patente ritirata per un anno con decurtazione di 10 punti Denuncia l'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza Con pena prevista dell'arresto da 6 mesi a un anno Sono solo alcuni dei provvedimenti adottati nei confronti di un 33enne di Monte Maggiore al Metauro Dopo aver guidato Ubriaco in Contromano È accaduto alle prime luci dell'alba di domenica 26 luglio Quando due poliziotti del distaccamento Polizia Stradale di Fano Si stavano reccando al lavoro a bordo dell'auto privata Ad un certo punto, mentre percorrevano in direzione nord la strada statale adriatica In località Metauriglia sono stati sorpassati da un Alfa Romeo 147 con un giovane alla guida Il ragazzo subito dopo il sorpasso ha cominciato a zizzagare andando completamente Contromano Tanto da costringere un veicolo che procedeva in senso contrario A frenare bruscamente e a bloccarsi a ridosso del margine destro per evitare l'impatto Dopo aver evitato uno scontro frontale per un soffio È tornato sulla destra rischiando di investire un ciclista e un veicolo adibito alla raccolta di rifiuti È scattato così un breve inseguimento da parte degli agenti dietro al pericoloso mezzo per cercare di fermarlo Nonostante fossero a bordo di una utilitaria privata I poliziotti hanno cercato di attirare la sua attenzione con l'utilizzo del claxon Riuscendo nell'intento dopo alcuni chilometri Quando l'Alfa Romeo aveva imboccato via Fraghetto e via delle Querce Strada ampia, senso unico, idonia per l'affiancamento dell'auto e suo arresto in sicurezza Il 33enne era in evidente stato di ebrezza Tanto da rendersi necessario l'accompagnamento negli uffici della Polizia Stradale Per la verifica del tasso alcolemico Risultato poi quattro volte superiore il consentito Pari a 2,46 grammi al litro di etanolo nel sangue Oltre ai vari provvedimenti adottati nei suoi confronti Il giovane dovrà pagare un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro Aumentata di un terzo per aver commesso il fatto in ore notturne Con sequestro del veicolo di sua proprietà per la successiva confisca In aggiunta anche una contravvezione di 163 euro Con quattro punti di decurtazione per aver circolato contro mano Nel prossimo fine settimana la Polizia Stradale aumenterà specifici controlli del tasso alcolemico E durante l'estate cambiano proprio le modalità e anche i luoghi dove si verificano i reati di furto La Polizia di Pesaro e Urbino ha denunciato in stato di libertà un sedicenne e due quindicenni Tutti incensurati e residenti a Pesaro per il reato di furto Il fatto è accaduto il 25 luglio scorso alle ore 16.30 Quando il gestore di uno stabilimento balneare in zona sud del lungomare pesarese Aveva contattato il 113 dicendo di aver sorpreso poco prima alcuni giovani Mentre rubavano a una sua cliente L'uomo aveva notato due ragazzi in atteggiamento sospetto vicino a una cabina Gli si era avvicinato chiedendo loro cosa stessero facendo I due si erano però dati subito alla fuga Mentre un terzo giovane uscito dalla cabina con uno zainetto in mano E' stato subito prontamente fermato dal titolare dei bagni Nel frattempo anche i due fuggiaschi sono stati raggiunti e bloccati da altri bagnanti I tre minorenni sono stati consegnati ai poliziotti E dopo averli accompagnati in questura ed averli identificati Li hanno affidati ai genitori E li hanno denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria Lo zaino e il suo contenuto ovvero un centinaio di euro E un telefono cellulare sono stati riconsegnati invece alla legittima proprietaria Che nell'allontanarsi verso la battigia aveva accostato senza chiudere la chiave della porta della cabina E ancora forze dell'ordine in azione Siamo a Fano e hanno arrestato i carabinieri un 32enne romeno Che aveva rubato una bicicletta durante la festa della tratta a Marotta di Mondolfo Vediamo com'è andata Un 32enne romeno residente a Sassoferrato è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato L'uomo approfittando della folla giunta a Marotta per la festa della tratta Si è appropriato di una bici fatbike parcheggiata di fronte ai bagni Riccardo Sollevando la ruota posteriore bloccata dalla catena antifurto Si è avviato sul lungomare in direzione sud Avvisato da un conoscente e il proprietario della bicicletta Assieme ad un amico ha allertato i carabinieri E si è lanciato alla ricerca del ladro che aveva già guadagnato un centinaio di metri Dopo averlo raggiunto il 32enne si è giustificato Affermando si trattasse della bici di un amico che aveva dimenticato a casa le chiavi Il proprietario vista la faccia tosta del ladro in grado di negare l'evidenza Gli ha strappato di mano con forza al mezzo rientrandone in possesso Giunti sul posto i carabinieri della stazione di Marotta Hanno raccolto le prime indicazioni del derubato e hanno iniziato le ricerche Il fuggitivo allontanandosi con passo veloce e confondendosi tra la gente Era già convinto di averla fatta franca Ma grazie alle precise descrizioni ricevute i militari sono riusciti a individuarlo Dopo una breve resistenza è stato caricato sull'auto di servizio e portato in caserma Formalizzata la denuncia, raccolti tutti gli elementi Il romeno è stato tratto in arresto e trattenuto nelle celle di sicurezza In attesa della convalida e del processo con giudizio direttissimo davanti al giudice Il giovane ha ammesso il fatto ed è stato condannato a tre mesi di reclusione E 100 euro di multa con pena sospesa Ed ora occupiamoci dell'omicidio del 17enne di Sant'Angelo Invado Sono stati ritrovati il coltello che l'ha ucciso e l'iPhone di Ismaele Lulli Mentre Ambra è andata in Macedonia con la sua famiglia Vediamo Cosa devo fare? Dimmi cosa devo fare? Se lo vuoi ammazzare fallo Questi discorsi tra i due albanesi accusati del delitto di Ismaele Lulli Il 17enne ucciso Sant'Angelo Invado mentre era legato ad una croce di ferro ignaro Di ciò che lo stava aspettando Confessioni fatte dai limita che coinvolgono pesantemente Mario Mema Continuano ad emergere dunque i particolari sul terribile omicidio Portato a termine con ferocia con due colpi mortali al collo di Ismaele Sferrati da un coltello a serrammanico con una lama di 15 centimetri L'arma contundente è stata ritrovata all'alba di sabato assieme al cellulare della vittima Al termine di una battuta iniziata dai carabinieri alle 4 E fatta con metal detector in collaborazione con il personale del nucleo cinofile della polizia penitenziaria Erano presenti anche i due accusati L'iPhone trovato spaccato sul greto del fiume Aura a Borgo Pace In prossimità di una gorga denominata dei Morti Dove i presunti assassini erano andati a fare il bagno dopo il delitto È ritenuto importante dagli investigatori perché potrebbe contenere messaggi Tra Ismaele e il suo presunto killer Oppure tra la vittima e Ambera La macedone fidanzata di Meta a causa della quale sarebbe scattata la foglia omicida E che nonostante già dalla sera fosse venuta a conoscenza del delitto Non ha allertato le forze dell'ordine Igli mi ha telefonato subito per avvisarmi Aveva dichiarato Ma io non riuscivo a crederci Ambera, così chiamata dagli amici Al momento non è coinvolta penalmente Ma dal suo cellulare, su richiesta del suo ragazzo È partito un messaggio Che invitava Isma ad un appuntamento Alla fermata del bus a Sant'Angelo Gli è stato chiesto quindi di fare da intermediari affinché il 17enne non sospettasse nulla Ma quando si è accorto che ad attenderlo non c'era lei ma i due albanesi È salito lo stesso sull'Opel Corsa Senza costrizioni Vista la situazione forse considerati anche gli insulti e le minacce su Facebook Ambera e famiglia avrebbero deciso di trasferirsi in Macedonia Pare infatti che il padre abbia chiuso il contratto con la ditta di meccanica di Lunano Dove anche sabato mattina avrebbe dovuto recarsi per lavorare E invece venerdì notte sarebbero partiti Intanto l'avvocato difensore di Glimeta, Salvatore Assole Ha nominato un consulente criminologo, Ezio Denti Lo psicologo forense che allo stesso del caso Bossetti Dovrà relazionare sul raptus o sul momento di buio Come definito dal legale Che sarebbe all'origine del brutale assassino di Ismaele Ora anche se le indagini hanno permesso di chiarire molti aspetti dell'accaduto Resta da capire se vi sia stata premeditazione non ancora contestata ai due albanesi Prima di confessare di fronte al magistrato di essere stato lui a compiere l'atroce omicidio Meta si è fatto consegnare carta e penna per scrivere una lettera alla famiglia della sua vittima Un foglio consegnato al PM ma che non è mai stato spedito alla mamma di Ismaele Che per ora non se la sente di perdonare La donna spera solo che sia fatta giustizia Un dramma nel dramma che ha coinvolto anche lo zio di Mario Mema Impiccatosi in Albania Sopraffatto dalla vergogna per quanto accaduto A riferire del suicidio è stata la madre del ragazzo al microfono del giornalista media Sette Enrico Fedocci Un gesto che risponde ad un dolore profondo e insopportabile E rimaniamo a Sant'Angelo Invado dove oggi si è parlato di sicurezza Sono in netta diminuzione i reati del territorio dell'Alta Valle del Metauro Ma l'omicidio di Ismaele Lulli impone una riflessione generale Sulla presenza delle comunità straniere nell'area E' quanto emerso durante il Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica Presieduto dal prefetto Luigi Pizzi che si è riunito oggi a Sant'Angelo Invado Pur nell'ambito di una situazione di buona integrazione degli stranieri con la popolazione locale Ci sono problemi derivanti dalle singole culture E' stato detto durante l'incontro Per quanto il disagio giovanile è stata stabilita la programmazione di attività sociali e culturali Volte alla prevenzione di alcolismo e tossicodipendenza Che nelle aree interne della provincia di Pesor Urbino Hanno fatto registrare un incremento in questi ultimi anni Della ghiaia non spianata arriva e fioriere pericolose Lungo la strada che conduce ai bagni Pelo a Sassonia Sud A lamentarsi di questo oggi è stato il gestore della spiaggia Sentite che cosa ci ha dichiarato Lo scorso 3 luglio la nostra redazione si era recata ai bagni Pelo a Sassonia di Fano Dove alcuni cittadini avevano segnalato pericolosi dossi di sabbia sull'arenile Episodio in cui è intervenuta anche la capitaneria di Porto Il comandante Liana Di Donato ci aveva detto che avrebbero attuato ulteriori indagini Al fine di valutare un'ipotesi di reato da segnalare eventualmente all'autorità giudiziaria Oggi siamo tornati nuovamente in quel tratto di costa della Baia Metauro Ma questa volta chiamati dal gestore Diverse infatti sono le sue lamentele dalla ghiaia lasciata accumulata a riva Le fioriere poste sulla strada che conduce alla spiaggia In che condizioni è questa mattina la spiaggia? La vedi? È in condizioni pietose La gente che deve da lì andare a fare il bagno Guarda in che condizioni si trova Purtroppo il comune questa mattina non è passato O chiamiamo un mezzo privato o altrimenti rimane così Seconda cosa, l'altra volta quando loro Voi eravate venuti a vedere che c'erano le buche La capitaneria che c'erano le buche Che qui c'era la sabbia mossa Per spianare tutto questo la sabbia diventa mossa Si smuove tutto Naturalmente la metti in condizioni Quando il comune passa viene effettuato Quando il comune non passa rimane così Dimmi tu in che condizioni sono i bagnanti per andare al mare Se questa è una spiaggia in condizioni da fare pubblicità Bandiera azzurra e compagnia bella Quindi ghiaia in eccesso, ghiaia non spianata E oltretutto anche alghe lasciate depositare a riva Allora tutto depositate a riva E purtroppo noi puliamo, puliamo Però questa è la forza che abbiamo Non possiamo fare di più Il comune passa quotidianamente di solito? No, il comune passa quasi tutte le mattine Sicuramente oggi avranno avuto altri problemi Non sono passati qui Passeranno domani mattina per carità Perché anche loro avranno i loro impegni Però voglio dire che quando si sistema E poi è quello reclama E l'altro succede E poi denunce su denunce per Ecco perché lei l'altra volta è stato denunciato Cioè denunciato Ma hanno fatto firmare che io ho portato lei Ho creato le buche Ho fatto quelle Queste sono le condizioni in cui viviamo E purtroppo non è che facciamo le buche Spianiamo per ottenere un risultato migliore per i clienti Il signor Virginio lamenta inoltre il posizionamento di sei fioriere Lungo la strada di accesso alla spiaggia Segnalate con del nastro bianco e rosso Costringono gli automobilisti O i conducenti di veicoli a due ruote A compiere continui slalom Il vice sindaco e assessore alla mobilità urbana Stefano Marcheggiani Che questa mattina ha fatto un sopralluogo Assicura che si stanno prendendo dei provvedimenti Sul problema specifica Sta intervenendo il dirigente settore servizi lavori pubblici e urbanistica Adriano Giangolini E ci spiega che le fioriere sono state posizionate dai cittadini su quel tratto Che è un'area privata Con l'obiettivo di far rallentare i mezzi al loro passaggio Perché innalzano la polvere Così l'ufficio ha consigliato ai proprietari di depolverarizzare la strada Senza asfaltarla per ora Visto che l'ASET dovrà eseguire a breve dei lavori Per sostituire una condotta idrica Quest'operazione servirà non solo a eliminare la polvere per i prossimi due mesi Ma anche a togliere quegli ostacoli provvisori e pericolosi La giunta regionale ha nominato Alessandro Marini Direttore generale dell'ASUR E i direttori delle cinque aree vaste Conferiti sulla base dei nominativi indicati da Marini Per quanto riguarda l'area vasta 1 della provincia di Pesaro e Orbino E' stato nominato Carmine Di Bernardo Attualmente dirigente medico del servizio salute Oggi pomeriggio una ventina di commercianti del Centro Storico Hanno protestato contro il Comune di Fano Per la scarsa programmazione del cartellone degli eventi estivi Vediamo che cosa ci hanno dichiarato i nostri microfoni Chiediamo agli assessori Insomma a chi di dovere Che si facciano anche portavoce dei nostri problemi Le nostre lamentele Insomma se sei tu come assessore Bisogna che ogni tanto ti fai vedere Scambiamo due parole Non dico di girare un po' per la città Così ti rendi conto anche Cioè il corso e la piazza sono un conto Ma ci sono anche delle altre attività In altri punti della città abbastanza di secondo piano Per la gente ma che non sono di secondo piano Sono attività importanti anche in zone limitrofe della città Speriamo che questa cosa sensibilizzi un po' l'amministrazione Anche se abbiamo dei dubbi Invece di inventare cose Dove gli assessori, il Comune, l'amministrazione Purtroppo non vive Perché non vive la città Non vive il commercio Non vive la cittadinanza Non la vive Sarebbe meglio che si concertasse con loro Prima di prendere decisioni in modo unilaterale Vorrei che i miei colleghi commercianti fossero qui con noi Ecco perché vi sentite un po' pochini Sì, un pochino, abbastanza Aspettavate una partecipazione maggiore Siamo molto, molto, molto di più Veramente sono rimasta molto male di questa cosa Devo essere sincera Arrivata a questo punto loro ci meritiamo quello che abbiamo E nessuno si deve più lamentare Mi dispiace però è quello che penso E su questa protesta noi abbiamo sentito telefonicamente il sindaco di Fano Massimo Seri che ha incontrato gli esecutori di questa protesta Sentiamo che cosa ci ha dichiarato Ovviamente io con loro ho avuto un incontro a lunedì 27 Io mi sono preso l'impegno anche di seguire personalmente alcune questioni Loro penso abbiano apprezzato anche questa mia disponibilità Va recuperato magari un gap di maggior coinvolgimento Cosa che non sempre è avvenuta Però quando si dialoga e si collabora seriamente Nell'interesse collettivo si superano tutte le difficoltà Quindi il dialogo, il confronto è sempre la base di ogni obiettivo E penso che insomma come abbiamo già fatto oggi Fra l'altro nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro Con tutti i rappresentanti, tutti gli operatori Per quello che riguarda l'attività del prossimo Natale Quindi quando c'è coinvolgimento e collaborazione Magari si condividono più le scelte E nascono meno incomprensioni Quindi penso che il rapporto sia costruttivo Io anche non a caso sono andato a incontrare, a salutarli A riconfermare quanto ci eravamo già detti nell'incontro Io sono persona seria, quando assumo degli impegni Li mantengo a cominciare, ripeto, da oggi Che fra l'altro è una sola coincidenza Mi era già stato programmato da tempo E adesso occupiamoci del caldo e del tempo affoso E siccitoso di questi ultimi tempi E quindi il perdurare delle temperature elevate L'assenza di piogge di quest'ultimo periodo Stanno determinando una situazione Che potrebbe rilevarsi critica per le riserve idriche Pertanto allo scopo di tutelare In primi sull'uso dell'acqua Scopo alimentare ed igienico Il sindaco di Fano Massimo Seri Ha emanato un'ordinanza Che vieta l'utilizzo di acqua potabile Per l'irrigazione E l'annaffiatura di orti, giardini e prati Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali Il lavaggio privato di veicoli a motori Il riempimento di piscine, fontane ornamentali Vasche da giardino E per tutti gli usi diversi Da quello alimentare domestico E per l'igiene personale E' consentita l'annaffiatura Nei soli giorni di lunedì e giovedì Dalle 22 alle 24 Inoltre, nell'ordinanza Il sindaco invita tutti i cittadini Ad adottare atteggiamenti utili Al risparmio dell'acqua potabile Per un positivo impatto ambientale E nell'interesse collettivo Questa mattina è stata ricollocata Al lato della chiesa di Sant'Arcangelo Da poco restaurata con i fondi Dell'8x1000 Nella medesima posizione in cui si trovava Prima dell'inizio dei lavori La rampa per permettere l'accesso ai disabili Ed è materialmente proprio la stessa rampa Quella della discordia La stessa che alla sua comparsa Su Corso Matteotti Scatenò tante polemiche Su chi ne sosteneva la sua necessità Per una questione di civiltà E chi invece ne contestava Sì alla dimensione La collocazione che deturpava La facciata della chiesa E la sua funzionalità E parliamo di spettacoli Adesso andiamo alla Rocca Malatestiana Dove è in programma per domani Una pericena solidale In occasione della proiezione Di un trailer Di un film realizzato da ragazzi Provenienti da 40 paesi diversi E che vivono all'hotel house Di Porto Recanati Homeward Bound Sulla strada di casa È un film sperimentale Un progetto sociale realizzato Con alcuni adolescenti Che vivono all'hotel house Di Porto Recanati Un enorme grattacielo Di 17 piani Oltre 500 appartamenti Dove vivono circa 2000 persone Provenienti da più di 40 paesi differenti Di questi 450 sono minori Più del 90% Della popolazione residente E di nazionalità straniera Si tratta di una realtà Di rilievo nel panorama europeo Che ha attirato L'attenzione di università italiane E straniere Ed ha suscitato Più volte clamore A livello nazionale Questi giovani Sono stati coinvolti Nell'iniziativa Dove tutti hanno lavorato Gratuitamente Per più di un anno Il film Che li vede interpretare Se stessi Racconta Nell'arco di un giorno La vita e le vicende All'interno del palazzo Che fa da sfondo Alle storie Le condiziona E le porta fino Alle più drammatiche conseguenze Le amicizie si perdono Nel tempo E nello spazio Dell'hotel house Che sembra estraneo Indifferente alle loro realtà Alla fine Uno dei protagonisti Lascerà la sua casa E i suoi amici Per partire con la famiglia Alla volta di un nuovo paese Per cominciare Una nuova vita Una vita Che è un continuo migrare Si tratta di un progetto Che si inserisce Nell'ambito del format Piacere di conoscerti Storie vere dal mondo Ed emozioni e speranze Che Lapito ormai Porta avanti Da qualche mese E questo progetto riguarda Un progetto sociale Appunto E la realizzazione Di un film Regista e antropologo Giorgio Cingolani E il docente universitario Di Macerata Claudio Gaetani Nonché critico Cinematografico Hanno realizzato Da prima Un cortometraggio Che è ormai In circolazione Da qualche anno E poi hanno pensato Di realizzare appunto Questo film All'interno del progetto sociale Che è un film Che vede coinvolti I ragazzi Che sono ospitate All'interno della struttura E che quindi Verrà poi proposto Nello scenario nazionale Ed internazionale Dei lungometraggi Il trailer Verrà proiettato domani sera Alla Rocca Malatestiana Dopo una pericena solidale Alle 19.30 Organizzato Dall'associazione Apito In collaborazione con Work in Progress E la commissione Pari opportunità Della regione Marche La quota di partecipazione Di 12 euro Ed è necessaria La prenotazione Parte del ricavato Invece Almeno il 30% Sarà devoluto Alla risoluzione Di problematiche Ed emergenze strutturali Del grattacielo Che riguardano La sicurezza E la qualità Della vita Delle persone In un contesto Che ormai Appare in stato Di avanzato degrado E di pericolo Igenico Sanitario Rilevante Ha accettato Questa proposta E con la pericena Finanzierà Per quello che è possibile Questo progetto Alle volte accade Che pur vivendo In una città In un contesto Non se ne conoscono Appieno Tutti gli aspetti Culturali Storici Sociali E allora Ci sono occasioni Per conoscere Appieno La propria città In questo caso Fano Tripo appuntamento Con le visite Alla città Di Fano Martedì 28 È prevista Una visita Alla Fano Romana Con un percorso Che si snoda Tra i vicoli Cunicoli E le gallerie Sotterranee Della città E che porta La scoperta Dei luoghi Insoliti E più suggestivi Giovedì 30 Poi l'associazione Culturale Un giardino Per l'arte Ha organizzato Una visita Agli studi Degli artisti Fanesi Infine Venerdì 31 luglio È in programma La Fano da scoprire Con una passeggiata Lungo le vie Del centro Alla ricerca Delle radici storiche Della città Per info e costi Potrete visitare Il nostro sito Occhialanotizia.it Dove potrete trovare Il programma Dettagliato E tutte le informazioni E i costi Per la prenotazione Nel decimo anniversario Della morte Di Don Luigi Giussani Il 30 e il 31 luglio Prossimi Verrà allestita La mostra Alla tensostruttura Di Sassonia Dalle 20 e 30 Alle ore 23 La presentazione ufficiale Con la presenza Della dottoressa Alessandra Vitez Si svolgerà Mercoledì Alle ore 21 e 30 E ora parliamo Di sogni Che alle volte Diventano realtà E quindi Un sogno Di mezza estate Quella della fanese Michela Mengarelli La studentessa Infatti è volata A New York E in questi giorni Sta frequentando Stage e lezioni All'Accademia Americana Manhattan Dance Project Con famosi Coreografi internazionali Passione Caparbietà Per la disciplina Della danza Hanno premiato La nostra concittadina A realizzare Il suo sogno Di gloria Classe 1988 Michela è decollata Verso gli Stati Uniti Il 20 luglio Dopo essersi Aggiudicata Una prestigiosa Borsa di studio Durante il concorso Dancing Time Di Fiuggi Lo scorso 4, 5 e 6 Settembre Bene Alla brava E caparvi a Michela Vanno tutti i nostri Migliori auguri E le congratulazioni Di tutto lo staff Di Fano TV Per questa sera È tutto Per l'informazione Grazie per essere stati In nostra compagnia Il TGO Che la notizia Tornerà domani sera Puntuale alle 20 e 30 E noi saremmo qui Puntuali come sempre Buonasera E arrivederci a domani Per l'informazione